Immagino all the people living life in peace Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video! Cantiamo per sdrammatizzare, ragazzi, piccola ripresa dei mercati dopo il più grande e colossale fallimento della storia delle criptovalute da che mi ricordi io, cioè il progetto Terra-Luna incredibile fallimento, si è azzerato anche oggi tutto quanto quello che riguardava addirittura anche Terra quindi la US Terra, quindi la stablecoin di Luna vediamo se vi faccio vedere anche l'attuale quotazione di questo, dell'ex ormai progetto, insomma top capital eccolo qui, dove stai Luna? Eccolo qui ragazzi, allora in pratica è arrivato a zero qualche oretta fa, vedete, adesso sta rimbalzando questa è una stablecoin, quindi si è azzerata totalmente in pratica 0.1, ancora resistono, ancora cercano di fare qualcosa si capisce, va beh, Luna al contempo è diventata in pratica una specie di Safemoon infinita, cioè ha una diluzione di capitale gigantesca proprio causata dall'algoritmo insomma vediamo se la troviamo su CoinMarketCap per farvela vedere, veramente, eccola qui vediamo un po', se non sbaglio, adesso vuoi che aumenta la capitalizzazione, la supply scusate è gigantesca, 6 miliardi e mezzo di Luna il capitale è circolante attualmente, quindi insomma il valore è 0, meno di 0, meno di 0 allora, il più grande fallimento della storia dei mercati è l'ecritto cosa ci insegna, come possiamo proteggerci oggi i mercati provano a rimbalzare cosa succede in questa situazione? ovviamente, by the deep è contro trend sapete bene, penso, ormai l'abbiate capito dopo che lo ripetiamo da 75 milioni di anni che non si fa, soprattutto se sprovveduti una cosa è la strategia di trading una cosa è invece il posizionarsi long term su progetti di questo tipo che cadono come pere dall'albero senza avere la minima idea di quello che si sta facendo perché ragazzi, perché c'è l'algoritmo dietro che stampava Luna come se non ci fosse un domani quindi, ovviamente, anche lì c'era la iper, iper, iper infelzione del token quindi anche volendo, rimbalzando non sarebbe mai sopravvissuto diverso era magari il tentativo di poter fare qualcosina sulla UST Terra, insomma che poteva magari essere peggata con qualche influsso di capitali insomma, quindi fallito totalmente il progetto di Luna vediamo come andranno a ripiegarsi ma cosa è successo ai mercati delle crypto e soprattutto quali sono i nuovi sviluppi poi per Bitcoin quello che dobbiamo tenere adesso in considerazione dopo che è successa un evento importantissimo cioè Bitcoin ha breccato il minimo del ciclo annuale quindi o abbiamo chiuso il ciclo annuale sull'ultimo minimo con largo anticipo perché mancano tre mesi oppure per i prossimi tre mesi sudiamo e non poco ragazzi quindi bisogna avere i nervi saldi in questo video io vi dico quelli che sono i miei tips per impostare quella che è la vostra operatività e soprattutto proteggere quelli che sono i vostri portafogli intanto si parte da un concetto fondamentale la lezione imparata in tantissimi hanno perso veramente tanti tanti capitali però a me non piace guardare il bicchiere in mezzo vuoto a me piace guardare il bicchiere in mezzo pieno come ormai avete imparato a conoscermi ragazzi ogni cosa che succede di questo tipo dobbiamo farne tesoro a prescindere poteva capitare anche a me poteva capitare a qualsiasi altra persona anche a chi di voi dall'altra parte non ha mai messo un dollaro su questo tipo di protocollo ma poteva capitare ragazzi va bene allora qual è la vera lezione da apprendere se siete rimasti un po' scottati il concetto del rischio che viene dimenticato troppo spesso nel settore dell'ecritto io vi faccio una testa tanta non è commerciale non mi date like per questa roba qui e non mi date diciamo visualizzazioni perché se io vi dico che vi dovete proteggere ovviamente non faccio diciamo i pipi a ie e non faccio lo sborone dappertutto quindi se io vi dico invece sì vai sul carro tutti ie allora a quel punto mi piace allora ragazzi è sempre un trade off allora ricordiamoci rischio va bene esistono i rischi nei mercati se ci sono rendimenti più alti sono i rendimenti più alti sono i rischi a meno che il mercato non ha uno squilibrio ma gli squilibri detti anche asimmetrie accadono in un mercato due volte ogni dieci anni quindi sono molto rari e vi assicuro che non li trovate voi pubblicizzati su twitter o pubblicizzati sui social media o da qualche parte per trovare uno squilibrio di mercato che può essere tradato bisogna essere estremamente ricercatori analisti puntuali e precisi e lo trovate solo voi non lo trovate scritto nelle community telegram e ne dappertutto perché sono difficili appunto da trovare ragazzi nessuno li vede allora sostanzialmente quindi basatevi su questa logica più è alto il rendimento di qualcosa più è alto il rischio di qualcosa è un po' di tutta l'erba un fascio questa frase però siamo su youtube non siamo a un congresso di analisti dove siamo in otto persone iniziamo centinaia migliaia di persone allora andiamo a ragionare di tutta l'erba un fascio cioè diamoci una regola che sia più semplice possibile più facile da comprendere per tutti quanti poi chi è un esperto può approfondire da solo un po' di più questo concetto e capire che non sempre è così ma quelle sono singolarità va bene quindi impariamo la lezione del rischio impariamo la lezione del concetto che i mercati cripto e tutto ciò che non è bitcoin è assolutamente un esperimento sempre e comunque a prescindere della logica che c'è dietro al progetto e quindi anche se un progetto è costruito con il massimo rispetto delle cose più belle del mondo stanno sempre sperimentando c'è dietro un team solo bitcoin non ha dietro il team ragazzi solo bitcoin non ha dietro un marketing come le altcoin e le crypto quindi sono cose differenti perciò bisogna ricordarsi che il team è il vero il vero vero responsabile di una impennata o di un crash di un protocollo non responsabile in termini giuridici ma in termini diciamo normali quindi è responsabile nel senso che se un progetto va bene è grazie al team che va bene quando va male è perché il team non è riuscito a farlo funzionare quindi il concetto che esiste un team ve lo dovete stampare in testa che il team è più importante di qualsiasi cosa che voi trovate scritta all'interno dei white paper dei processi e tutto il resto noi possiamo leggere come funziona un protocollo possiamo studiare come funziona che è un valore inestimabile secondo me però ricordatevi che se ragionate da investitori poi quello che conta di più è il team ragazzi sono bravi non sono bravi e soprattutto sono in grado di avere gli agganci giusti di autotutelarsi da queste situazioni quindi terza cosa fondamentale andiamo incontro ad una questione molto importante i prossimi mesi saranno estremamente delicati quindi ragion per cui io faccio un ulteriore appello a tutti quanti di non esporti in maniera spregiudicata la volatilità del mercato da gennaio 2022 vi sto dicendo questo mantra trend is your friend è il mantra da sempre ma il mantra dell'anno 2022 è riducere l'esposizione alla volatilità anno 2021 era un anno per trader anno 2022 è un anno per trader ve lo sto dicendo da sei mesi quindi se siete holder riducete la volatilità del vostro portafoglio ormai è crashato mezzo mondo ok purtroppo ragazzi non è che possiamo dirvi le cose 20.000 volte ridurre la volatilità quando le cose sono rischiose è sempre un passo gratis magari non prendete il massimo possibile da un mercato ma non è quello il vostro scopo dovete impostare la vostra mentalità da investitori a cercare costantemente di bilanciare il vostro portafoglio chi ha perso oggi in questi giorni una questione luna e ha bilanciato un portafoglio ragazzi si porta a casa una lezione importantissima sul rischio ma non si è distrutto il portafoglio quindi capite bene quanto è importante questo tipo di logica quindi questa è una cosa fondamentale dove quarto punto dove andare quattro punto dove andare a mettere quelli che sono le nostre cripto adesso ragazzi la stable coin gli attacchi possibili che cosa può succedere mancano tre mesi secondo me alla definizione globale di questo ciclo annuale che sia nel bene o nel male magari abbiamo fatto un minimo e magari proviamo in questi mesi a tentare di imbalzare siamo fermi e poi riproviamo ad aggiornare i minimi vediamo questo va visto giorno per giorno siamo arrivati a 25.000 quindi in ogni caso abbiamo fatto il crash della vecchia resistenza 29 che però come vedete a livello settimanale ancora regge ne parliamo lunedì perché lunedì facciamo un super iper aggiornamento di tutta la situazione dopo queste falle che si sono create ma il problema oggi che dovete razionalmente ragionare è questo quali sono intanto punto primo le chain più sicure va bene ragazzi questo è quello che io sto ragionando in questo momento se io ho delle stable coin per esempio ragazzi quali sono le stable coin più sicure e su quali chain sono più al sicuro allora è ovvio che ethereum in questo caso come chain dove mettere le stable coin è la più sicura però è anche vero che adesso non andiamo ad esagerare insomma tutto la favara e quant'altro ho un trucchetto che è quello che uso io è giusto ho sbagliato assolutamente opinabile perché è iper semplificativo quindi taglia veramente migliaia di considerazioni non è il più efficiente ma il più efficace perché è assolutamente iper semplice da attuare e si fa in poco tempo ragazzi quindi come sapete io sono un minimalista del trading quindi preferisco ragionare così poi è vero ci sono sistemi più efficienti ma richiedono tanto tempo tanta insomma difficoltà anche nelle stelle attuate allora come si fa a capire se una chain è più rischiosa o meno rischiosa andatevi a guardare i rendimenti che offrono per la stessa cripto per la stessa stable coin facciamo un esempio ok ragazzi questo è un sito che io utilizzo per andare a comprendere quelle che sono i rendimenti della DeFi relativi al discorso per esempio delle stable coin delle coin in generale che io voglio andare a mettere in DeFi ma in questo caso quello che faremo è andare a utilizzare questo tipo di sito che è Coindix vi lascio il link ma ovviamente basta che scrivete Coindix e andate a vedere quelli che sono i rendimenti delle stable coin che sono proprio in questo caso quello che ci interessa e andiamo a ragionare quali chain possono essere più rischiose o meno rischiose su quello che il mercato ci dice in base appunto all'arrendimento più alto il rendimento più le chain saranno rischiose ragazzi in un periodo in un momento che magari non avverrà però dovessimo assistere a un ulteriore attacco magari ai mercati delle cripto perché non è solo l'una che in quelle condizioni ragazzi non è solo l'una che aveva quel discorso del protocollo se ci sono altri attacchi in questo momento alla questione cripto ai protocolli delle cripto noi dobbiamo essere il più prudenziali possibili almeno quello che farò io nei prossimi mesi quindi andiamo a vedere le chain in questo caso stiamo andando a vedere le chain che affrono dei rendimenti sulla stessa identica coin più o meno con lo stesso tvl a prezzi dei rendimenti che sono di mercato quindi è questo che stiamo cercando di fare allora andate su CoinDix vi spiego questo il famosissimo diciamo strategia veramente facile proprio facile andiamo qui invece di all volts andiamo a prendere solo stable coin ho messo qui usdt potete mettere anche usdc e andiamo a vedere partiamo da ethereum ovviamente la più sicura mettete qui in ordine di tvl in modo tale che abbiamo una massa di liquidità e andiamo a vedere la base del rendimento più ricord e l'api in generale allora a parte che alcuni api di questo sito non spesso combaciano con le realtà perché sono un po' ogni tanto parlo che quindi vanno assolutamente poi bisogna andarle a controllare però in linea di massima ragazzi a noi non interessa adesso controllare l'epicoy precisa ma solo più o meno quanto è il rendimento delle stable coin su una chain che ethereum è la più sicura allora è abbastanza visibile andiamo a vedere unisguop per esempio che ha molta liquidità è un servizio estremamente sicuro come dex decentralizzato quindi molto importante e abbiamo 4% la suave abbiamo il 3% in totale quindi più o meno il rendimento su chain sicure delle stable coin usdt o usdc è intorno al 4 5% massimo questo è quello che ne otteniamo andiamo a vedere bnb si parte da minus eccetera però poi magari scendiamo giù andare a vedere la questione per esempio di altri exchange vediamo bnb non è sempre una chain favorevole diciamo al rendimento delle stable coin però per esempio questi che sono protocolli un pochettino più giovincelli quindi come anche bisguop l'ho testato io stesso in questo caso bisguop già un po' meglio però è molto giovane quindi bisogna rendersene conto comunque in linea di massima ragazzi guardate come leggermente un po' più alto rispetto a quella di ethereum 6-9% se andiamo su bisguop già sotto andiamo a prendere cose decisamente diverse queste bifi per esempio su bnb è già un rendimento molto più alto significa maggiore rischio ma se andiamo a prendere magari alcune situazioni un po' più standard vediamo che bnb chain in generale ha un rischio non molto difforme da quello di ethereum perché vedete che la struttura qua dei rendimenti ci si avvicina ma comunque più alta quindi già primo step ethereum meno rischio bnb più rischio poi se andiamo a vedere le altre ad esempio abbiamo solana nello stesso identico modo potete andare a fare un po' di confronti ovviamente qui abbiamo un tvl bassissimo quindi non da prendere in considerazione solana non ha molti rendimenti su queste stable andando avanti abbiamo polygon polygon anche qui vedete dei rendimenti accettabili per esempio su quick swap ma 7% che significa più rischioso di ethereum più rischioso di bnb ma molto simile a bnb quindi poi andiamo su avax per esempio e andiamo a scendere più avanti e potete trovare per esempio trader jo in questo caso 22% e qui già si dice si capisce questa cosa ragazzi 22% per la stessa identica cosa che su ethereum ti pagano il 5 più rischio non è detto che è giusto o sbagliato quello dipende dalle vostre scelte però ragazzi questo è un trucco perché il mercato delle indicazioni ce le dà e ci dice è più rischioso quello secondo il mercato è più rischioso giusto o sbagliato come vi dicevo prima è una strategia questa è una tips estremamente basilare banalissimo efficace perché è velocissimo noi in 3 minuti lo vediamo ma non efficiente perché sicuramente poi c'è da studiare molto dietro il perché però ragazzi in questo momento tiriamo un po' il remi in barca andiamo a phantom la questione legata a phantom e anche qui vedete anche la struttura proprio di phantom è la più rischiosa ancora perché se andiamo avanti diciamo andiamo a vedere per esempio scream 14% sulla sola coin quindi dove non c'è per esempio neanche il concetto dell'impermanent loss qui usdt usdc bifi che comunque è bifi ragazzi quindi come young finance 47% questo significa che da queste c'è in phantom è quella più rischiosa di tutti allora questo è un trucchetto lo fate poi come vi pare a voi sulle cripto che vi sembra a voi è quello che vi interessa poi però andiamo a capire la questione come si fa maggiore rendimento proposto su alcuni protocolli alcune chain il mercato lo valuta come maggiore rischio ora se voi volete essere più protettivi in questa fase andate sulle chain con meno rischio e quindi andatevi a mettere le stable in questo caso su eth quindi ethereum come blockchain o bsc come blockchain o eventualmente polygon come blockchain poi succederà che queste chain invece tra un po' il mercato le valutole diverse però noi non abbiamo altri dati perché a meno che voi non conosciate gli eventuali squali che possono agire diciamo in questo momento c'è poco da fare quindi questo è l'unico trucco che funziona davvero oggettivo dato il mercato ve lo dice quindi banalissimo ma comunque anche estremamente efficiente poi c'è un'altra questione la questione che interessa tantissimi di voi in questo momento cioè quale stablecoin è più sicura ragazzi quale stablecoin è più sicura è un problema di fondo perché intanto intanto non le algoritmiche a prescindere quindi se dovessi dire tra le stablecoin algoritmiche quelle sono quelle più sicure quelle che hanno una capitalizzazione in total market supply più bassa possibile perché hanno meno rischio di perdere quindi andatevi a prendere quelle che sono cioè con le algoritmiche che sono la capitalizzazione 50 milioni di dollari perché perché non se le calcola nessuno ok però a quel punto che vi serve ovviamente il concetto è quello escluso le algoritmiche le altre stablecoin andiamo a vedere una classifica che è estremamente rilevante ragazzi cioè la classifica nelle high cap verso BTC in termini di dominance che ci indicano intanto in maniera estremamente evidente che nella top adesso 10 ci sono queste criptovalute di cui io escluderei Aprioli Dodge che è una meme escluderei XRP che viaggia per i fatti suoi ragazzi in pratica escludendo BTC ed Ethereum abbiamo solo BNB Cardano e Solana come cripto e poi abbiamo stable 1 2 e 3 quindi le stable che in questo momento il mercato valuta come più stabili e più sicure sono Tether USDC e Binance USD poi ci sono altre stable c'è anche DAI ovviamente poi c'è la questione di sono collateralizzate sì o no allora USD c'è il problema che ho fuscato il concetto se c'è un dollaro o meno se USD veramente ha tutti quanti i dollari nella sua capitalizzazione è la più sicura di tutte perché è centralizzata e in questo caso un dollaro vale veramente un dollaro perché non c'è un algoritmo dietro il problema è che non lo sappiamo se è vera questa cosa dovrebbe essere così USDC ha anche un livello molto alto di sicurezza ha retto molto bene DAI è molto collateralizzata quindi ha retto molto bene anche questa fase non si sono depeggate però la soluzione migliore secondo me ragazzi a questo tipo di problema è diversificare nelle top 3 stablecoin non c'è un'altra soluzione poi ci sono le fiat ragazzi tornate in fiat USD classico se avete paura in questo caso della questione io personalmente diversificherò nelle mie stable nelle prime 3 che vi ho detto escluendo DAI non perché non mi piace ma perché poi è troppo eccessiva la diversificazione e basta quindi sono quelle che dovrebbero non avere problemi penso che non li avranno diciamo ragazzi però se dovesse esserci un attacco alle stablecoin ce ne accorgeremo a quel punto diversificare è l'unica soluzione quindi o prendete le fiat e tornate in euro dollari oppure diversificate su tutte le stablecoin che sono le top in questo caso USDT USDC e BUSD e vedete appunto avete fatto la scelta oculata quella giusta quella della diversificazione poi una di queste fallisce ne prendiamo atto ma non si può controllare il futuro quindi a quel punto se avete paura di questo solo fiat quindi il vecchio dollarone il vecchio euro che vi stampa la banca centrale e poi sono fatti i vostri insomma da questo punto di vista allora questo è il concetto legato alla stablecoin c'è anche un ulteriore problema ragazzi che vi faccio vedere nei prossimi mesi se i mercati non dovessero aver toccato il minimo del ciclo annuale proprio ieri ma abbiamo bisogno innanzitutto siamo in anticipo di tre mesi quindi o c'è una questione legata a una anomalia dell'annuale quindi annuale corto da 300 giorni che potrebbe istillare due anni terternali ne parleremo nei prossimi mesi di questa cosa quindi o c'è questa questione qui oppure facciamo una struttura di prossimi tre mesi con grande turbolenza ora se questa cosa avviene ragazzi quale cripto performerà meglio di BTC ed Ethereum questa è la vera domanda adesso vi faccio vedere la classifica perché stiamo tornando diciamo un po' riassestando il mercato da quello che abbiamo visto negli ultimi anni da quelle che erano le follie diciamo degli ultimi anni lo stiamo riassestando vi faccio vedere il change verso BTC degli ultimi sette giorni quale cripto hanno guadagnato più di BTC maker per una sua struttura interna dopodiché ci sono stablecoin e basta poi c'è FT poi c'è Leo questa è una specie di obbligazionario di Bitfinex è una cosa abbastanza particolare quindi è una specie di ha una struttura tutta sua DeFi chain ma in pratica un poco poco di più quindi il 2% quindi sia DeFi chain che FT hanno più o meno performato come Bitcoin vedete più 4 più 2 niente di rilevante le altre hanno guadagnato di più ma sono tutte le stable Tron e Maker quindi questo è il discorso Frax è un'algoritmica ragazzi è l'unica che a questo momento ancora sta in piedi diciamo di queste algoritmiche e così dopodiché andiamo a vedere la questione dei 30 giorni non è che cambi più di tanto sì c'è Tron che ha performato molto bene poi c'è vedete le stesse di prima DeFi chain maker FTT il token di dell'exchange FTX che stiamo utilizzando diciamo molto importante ragazzi l'exchange FTX in questa fase tra le altre cose è rimasta open alla piattaforma mi è piaciuto veramente molto l'exchange di FTX vi lascio il link in descrizione ragazzi mi date anche una mano se volete provarlo perché hanno messo anche una bellissima funzione di mettere in lending direttamente le USD presenti all'interno dell'exchange all'8% non è assolutamente male in questa fase perché siamo sempre in copertura exchange che secondo me è un pelino superiore a quella delle SFI come diciamo sicurezza le DeFi non ne parliamo ragazzi le DeFi sono meno sicure anche delle SFI secondo me poi ovviamente è un'opinione vedete comunque qui che la struttura poi c'è Wubi token ma la differenza insomma è 0 qualcosa se andiamo ancora più avanti vediamo all'inizio dell'anno guardate come si sta riequilibrando la struttura perché bitcoin lo scorso anno era non ventunesimo ma ottantaquattresimo quindi in questo ultimo anno solo queste cripto hanno guadagnato più di bitcoin e tra le quali dobbiamo poi eliminare anche quelle che sono tutte le stable coni che ce ne sono veramente tante quindi abbiamo qualche questione legata al metaverso qualche chain come Helium Polygon abbiamo addirittura shiba ma diciamo uguale a bitcoin 4% 0 insomma 7 che è WBTC che è praticamente bitcoin e poi abbiamo vedete Tether quindi sono praticamente la perdita di BTC questa qui quindi non hanno guadagnato di più hanno semplicemente non perso sono tutte stable 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 poi abbiamo AVAX CRO Qcoin Esulana e Nier che ancora hanno performato essende la numero 1 in questo caso che però negli ultimi diciamo 90 giorni sta perdendo parecchio però ancora è molto forza e Axie Pink quindi metaverso in sostanza e alcuni protocolli DeFi come Solana e AVAX ancora si mantengono superiori con un anno BTC ma guardate il trend verso BTC negli ultimi tre mesi quindi totalmente negativo anche Solana totalmente negativo anche Nier vedete è negativa negli ultimi periodi nonostante aveva performato bene a un certo punto poi abbiamo Qcoin queste sono centralizzate quindi le cripto legate agli exchange con FTT o KSC quindi Qcoin sono totalmente manipolate ovviamente dalle questioni legate all'exchange quindi non sono diciamo parte di un mercato che lascia liberi di fluttuare un po' come BNB dipende da quelle che sono le scelte anche CRO la stessa cosa ragazzi lo sappiamo ormai allora tutte queste criptovalute hanno retto un po' di più di Bitcoin ma negli ultimi mesi Bitcoin sta riprendendoci tutta quella che era la sua forza in maniera ancora molto lenta perché perché Ethereum è ancora molto forte rispetto a BTC e ve lo faccio vedere in questa fase è apperso più o meno a un anno il 7% rispetto a BTC quindi è praticamente niente ragazzi è un'oscillazione però è molto forte in termini di dominance questo è importante vederlo 20% ragazzi più o meno metà della capitalizzazione di Bitcoin e questo è il vero motivo per il quale Bitcoin non ha molto spazio ora se Bitcoin dovesse riprendere parte della sua dominance perché nel prossimo video lunedì andremo a guardare anche la dominance come indicatore macro e il ciclo della dominance se Bitcoin dovesse riprendere dominance deve farlo da chi allora questo è il vero dubbio di questo problema e se nei prossimi mezzi assisteremo a una questione di rischio sui mercati dell'ecritto dobbiamo stare attenti secondo me ad alcune questioni cioè quelle legate alle stable perché USD ha il 6% di dominance BNB in questo caso e poi USDC tutto il resto è noia perché da qui in poi abbiamo lo 0 virgola qualcosa l'1 virgola qualcosa quindi queste sono le quattro criptovalute che potrebbero perdere forza rispetto a Bitcoin se Bitcoin dovesse andare a prendere maggiori dominance poi ovviamente alcune cripto potrebbero magari fallire dare tanti punti percentuali a Bitcoin però sono molto piccole quindi ci vogliono centinaia di fallimenti per fare due punti percentuali quindi è un po' pochino io mi sarei fortemente attento a questa struttura qui se dovessero queste strutture hanno qualcosa in comune quindi a parte BNB hanno tutte un problema legato cioè alla blockchain di Ethereum quindi forte attenzione in questa fase Ethereum molto forte ci può stare non ho detto che Bitcoin dove è salire a dominanza di chissà cosa però qualche punto percentuale potrebbero perderlo quindi magari potremmo assistere semplicemente a una fase di lento declino o di difficoltà proprio dell'accendi Ethereum è possibile questa cosa ci sono dei dati a andare a vedere lunedì vediamo tutto ragazzi allora vi ho detto quelli che sono i miei tips per proteggervi in questa parte teneteli a mente secondo me sono importantissimi fate attenzione a non esporvi no volatilità guardate i rendimenti come vi ho spiegato è una è quello che faccio io ragazzi ok e poi riducete semplicemente magari l'investimento dividendolo un po' di più quindi Bitcoin Ethereum va bene poi Stablecoin va bene divise ancora di più diversificate asset allocation imparate a gestire i rischi questo è il più grande insegnamento del fallimento del progetto terra va bene ragazzi fatene tesoro e se avete subito perdite ricordatevi che quello che avete imparato vale di più delle perdite anche se oggi probabilmente non state digerendo bene la questione ci può stare va bene però non prendetevela né con voi stessi che è fondamentale né con il mercato o altre persone ancora peggio in quel caso mi raccomando fa parte del gioco i mercati sono alleatori imparate una lezione che è quello che serve di più vi serve nei prossimi 20 anni che avete davanti e vale molto di più di quello che oggi avete lasciato sul piatto ciao a tutti e buon weekend e buon weekend